Allora ragazzi, eccoci qua, lui è l'amico Karim, finalmente, come dire, friendship is no border, è vero? No border, no fronteira, no fronteira, noi ci siamo conosciuti sulle ande argentine, tre anni, nel 2014, poi il grande Karim è venuto con la sua compagna, Bochur, a trovarmi a Rocca di Mezzo, ed oggi siamo qui a Marrakesh, insieme. Allora abbiamo fatto un bel giro nella Medina, siamo andati a vedere la medrassa di Ibn Yusuf, bellissima, e poi camminiamo, camminiamo, adesso come vedi siamo qui, in queste viette della Medina, dove prima dicevo che non si accollano, invece devo dire che si accollano, però sempre in maniera abbastanza relativa. Che ti pare se è Marrakesh? Molto bene, è molto differente di quello che non si dice, si sa che in Italia, però no, non so esattamente, no, mi pare se è molto differente, la cultura, la gente, che ha parlato molto forte, perché vediamo la moto. E allora, il maf per il ruoto qui sono i motori. La moto, Karim abbiamo capito che c'è un po' timore, c'è un po' timore dei motorini, che in effetti sbucano come i gatti, e per fortuna diciamo che se sente almeno il rumore, che sono tutti sgarburati. Allora noi adesso andiamo a visitare i giardini, i gardini? I gardini? I gardini di Menara. Però vedi che bello, guarda questa non so, forse è una moschea, queste cose così arrabbeggianti sono sempre molto belle. Il tempo si è un po' ripreso, qui è tutta quanto una bella caspa, e noi adesso andremo al Rock de Caspa. Lui spinge, come insomaro, e va bene. Allora ragazzi, saluti da Marrakesh. Saluto a tutti. Saluto a tutti e alla prossima. Ciao.